Freni Schneider di 6 decimi, 60 centesimi, comunque poi la visibilità è buona, c'è anche un tiepido sole, un pallido sole che riesce a bucare la coltre di nubi che copre Park City e da qui in giù non ci sono più problemi, intanto vantaggio notevolmente incrementato, è una lotta in famiglia questa tra la Zeller Beller e la più famosa compagna di squadra Freni Schneider, vediamola in azione, la Zeller Beller molto potente, 27 anni, mai un successo in Coppa del Mondo per lei, 1 seconda e 0-3, però ha commesso subito un brutto errore al cambio di pendenza, subito dopo il rilevamento cronometrico, vediamo se lo pagherà, certo che il tratto è ancora abbastanza ripido quindi tanta velocità non dovrebbe averla persa, però lì qualche centesimo lo ha sicuramente lasciato, è veloce qui ma ha commesso qualche errore, staremo a vedere, staremo a vedere la Zeller Beller se ce la farà scalzare la compagna di squadra Freni Schneider, dovrebbe farcela, 21-22-03, niente, nessun problema per Heidi Zeller Beller veramente velocissima nonostante Valerio Ghirardi almeno per quanto riguarda il gruppo delle polivalenti, forza Sabina, vantaggio di 24 centesimi nei confronti di Heidi Zeller Beller ma la nostra atleta ha disputato una grandissima prima manche, vediamo se riuscirà a distanziare anche in questa seconda manche o a tenere a distanza comunque quella del Betica, sta rischiando molto qui nella parte alta, 6 centesimi ma non è questo l'intermedio che ci interessa, andiamo avanti, bene qui, molto bene, benissimo direi, sta sciando molto bene, adesso bisognerà vedere anche se sarà veloce, è veloce, è veloce, 21 centesimi, forza Sabina, forza Sabina qui un pochino di traverso, sta sciando bene la nostra Meranese, attenzione con il braccio, ha perso la presa del bastone sinistro, bene anche qui, stiamo nell'ordine dei centesimi, grande qui, qui ha sciato veramente alla grande, forza Sabina, ultime porte per lei, guardate il viso della Zeller Beller, 19-20, forza Sabina, forza Sabina, è seconda, seconda con 41 centesimi di ritardo, peccato, peccato per Sabina Panzanini, comunque arrivederci ai prossimi video sulla Coppa del Mondo Femminile 1994-95. Rendezvous au prochain video sur la Coupe du Monde Femminile 1994-95. See you in the next videos about the Women's World Cup 1994-95. Nos vemos en los próximos videos de la Coppa Femminina 1994-95. Wir sehen uns in den nächsten videos zum Damenpokal 1994-95.